ciao a tutti bentrovati e bentornati sul canale youtube scatta col trend in borsa allora oggi vedremo alcuni titoli che avete richiesto faremo il punto anche sul nostro Fussimib e attenzione perché poi lunedì ci sono dei dividendi in arrivo come ci sottolinea la nostra copertina e li andiamo subito a vedere non è il dividend day che era successo un po' di giorni fa ma ci sono comunque vari titoli che staccano e che sono assolutamente importanti abbiamo era il 0 14 con questo rendimento leonardo pirelli post italiane e va a staccare il saldo snam anche il saldo alla prima transfer stm e terna il saldo questi sono i rendimenti e poi abbiamo su gli altri indici sempre italiani acea ferretti ops interessante sicuramente il rendimento loro di acea poi carrile industrie stambulie un euro anche un euro interessante il dividendo un euro un titolo che ha avuto una discesa importante in borsa eppure avendo un debito molto molto alto prova sempre a tenere stretti sui azionisti erogando dividendi interessanti ma prima di andare a vedere alcuni titoli che ci avete segnalato facciamo un attimo il punto sul Fussimib sul nostro caro indice di borsa siamo qui nel lungo periodo sul time frame daily è abbastanza evidente questo canale rialzista e abbiamo avuto una volta toccati 35 mila punti una fase di discesa dettata soprattutto dalla situazione politica dopo le elezioni europee che ha visto tutti gli indici europei quindi c'è stata proprio una netta decorrelazione rispetto a euro street tutti gli indici europei è una fase di discesa sul Fussimib si era creata quest'area supportiva di 33 mila e 700 punti che è stata rotta e retestata ma era molto molto precisa nella giornata di giovedì che sembrava potesse dare là una ripartenza degna di nota vista la candela bullish davvero evidente con un corpo molto esteso salvo poi avere venerdì invece di nuovo una possibile fase di nuovo ribasso che potrebbe molto molto semplicemente portare a questo sia movimento ribassista pullback e poi potremmo avere in teoria il nuovo movimento ribassista quindi andare a chiudere tutta questa fase per andare a prendere la parte la parte bassa del canale chiaramente come dico sempre dopo una salita così evidente che ha portato da ottobre 2022 l'indice da 20 mila a 35 mila punti a fare uno storno a 30 mila e 5 significherebbe solamente portare nuove occasioni mantenendo il trend primario rialzista intatto e anche se andiamo a vedere per gli appassionati fra i quali sottoscritto di analisi non solo del prezzo ma anche del tempo quindi analisi ciclica individuiamo i cicli annuali quindi da ottobre 2022 a ottobre 2023 poi la ripartenza della nuova fase ciclica chiusura del sottociclo con sicuramente una buona cadenza temporale ripartenza dei nuovi sottoscicli adesso si va a scendere si sta tentando di fare il pullback ben evidenziato dai vari sottoscicli l'indicatore di velocità centrata che ci dà sicuramente dei segnali interessanti quando tagli ad esempio il rialzo la linea dello zero ma in questo momento è andato sotto e se noi andiamo a vedere i cicli più di breve quindi a spostarci in questo modo quindi andando a prendere ad esempio ottobre come partenza ciclica ci mettiamo così e ecco che vediamo come ci sia ancora un'ottima cadenza andiamo esattamente a mettere in questo modo per avere un po di tolleranza ed eccoci che abbiamo fase ciclica fase ciclica eccoci qua e la fase ciclica attuale che ci evidenzia appunto il movimento rialzista che abbiamo avuto nelle nelle ultime sessioni che però potrebbe poi portare vista la sincronia dei vari cicli che pian piano si dispongono al ribasso potrebbe però portare nei successivi giorni eccoci qua fino ai primi giorni di luglio ad avere ad avere possibilmente la chiusura del ciclo con una fase di relativa debolezza che molto semplicemente corrisponderebbe come analisi tecnica al movimento che abbiamo che abbiamo ipotizzato quindi ecco volevo un attimo fare un veloce recap un veloce punto sul sul nostro full semi mi sembra sempre doveloso tenerlo tenerlo sott'occhio andiamo a vedere alcuni titoli che ci avete segnalato partiamo da care cloud siamo chiaramente a wall street beh un titolo assolutamente particolare una società non grande vediamo come ci sia stato un gap un area di bottom ai 5 dollari sicuramente interessante provodiamo appunto un titolo che ha uno storico molto molto limitato quindi in questi casi è difficile rendersi conto dei livelli di swing effettivamente importanti credo che un'area fondamentale possa essere l'area dei 9 dollari quindi la chiusura la chiusura di questo gap e come analisi tecnica poi potremmo avere una ipotesi una ipotesi di ripartenza ma io chiaramente se li chiedete li faccio vedere ma questi sono titoli che anche come analisi tecnica sono assolutamente difficili con pochi con pochi elementi per andare a fare delle valutazioni il più possibile il più possibile oggettive o pesante andiamo su do value torniamo quindi in italia do value aveva avuto questa ripartenza dopo quest'area di possibile accumulazione questa ripartenza con una rottura sembrava dover ripartire salvo poi rientrare dentro ecco che in questo caso dobbiamo per forza andare a modificare la possibile area di trading range ed ecco che quindi i livelli a questo punto diventano 1,80 se si dovesse andare a fare un triplo minimo oppure sulla rottura del 2,45 per andare a cercare il buy chiaramente molto spesso una prima rottura è una falsa rottura e poi una rottura successiva è quella tra virgolette buona per ora siamo in sostanza a metà strada pur avendo avuto un'ottima sessione giovedì e poi il pullback come spesso cade venerdì più o meno a metà del corpo quindi qui mi aspetta adesso una prosecuzione rialzista chiaramente titolo assolutamente decorrelato quindi può muoversi liberamente ma in questo punto essendo a metà strada ripeto non andrei ad azzardare niente ipotesi buy sulla forza solamente sopra il 2,45 chiaramente un rientro a 1,80 diventa davvero una possibile interessantissima occasione perché come vediamo sono i minimi assoluti altro titolo che è stato chiesto rimaniamo in Italia, rimaniamo su un titolo eccoci qua, andiamo un attimo a pulire il grafico ok, andiamo su Italgas ovviamente titolo che conosciamo tutti chiaramente ha un debito alto come su tutte le utilities ma è un titolo assolutamente patrimonializzato magari se lo avessi scritto in italiano sarebbe stato meglio diciamo titolo patrimonializzato solidissimo e siamo ormai molto molto vicini a questa area che potrebbe darci un bel triplo minimo a 4,69 attenzione perché siamo però anche su un livello che se fosse rotto ci porterebbe probabilmente su questo minimo quindi a 4,52 chiaramente ci sta in ottica di analisi tecniche dei risk reward al test di questo livello di provare il buy andando poi a posizionare uno stop loss appena sotto a 4,50 quindi andando a difendersi utilizzando questo supporto che è davvero un supporto assolutamente importante vediamo nel lungo periodo come il titolo abbia chiaramente comunque ovviamente un trend di fondo rialzista e come quest'area sia un'area interessante perché siamo sicuramente lontani da questo doppio massimo a 6,38 e quindi un ingresso a 4,68 4,69 è sicuramente comunque un ingresso interessante attenzione perché comunque ci sono parecchi falsi segnali nel senso che la sessione che abbiamo avuto giovedì era una sessione chiarissimamente fortemente rialzista anche qui si è andate a fare il pullback a metà candela quindi c'è davvero tanta incertezza ma secondo me io attenderei comunque a priori prima eventualmente di intervenire i 4,68 passiamo a un titolo che non conoscevo se non semplicemente sapere che esistesse siamo a Wall Street un titolo prettamente dedicato ai diritti di Realty Income Corporation andiamo prima a vedere un attimo perché è molto interessante la situazione eccoci qua è una società, siamo chiaramente negli Stati Uniti che ha come core business acquisto, gestione, portare in affitto immobili in tutti e 50 gli Stati Uniti vediamolo un attimo in italiano perché è davvero interessante soprattutto per chi è orientato a titoli che offrono dividendi in maniera costante portafoglio di oltre 15.000 immobili in pratica su tutti i 50 mesi degli Stati Uniti distribuiti in 89 settori e ha sempre dato una costante crescita dei dividendi erogati eccoci qua andiamo a vedere questi sono alcuni dati ed è assolutamente interessante vedere come effettivamente vada in maniera costante a ottimizzare il portafoglio in maniera assolutamente sempre sempre diciamo innovativa nel senso che portano molto molto attenzione proprio alla diversificazione e alla gestione alle gestione delle risorse e è interessante andare a vedere eccoci qua andare a vedere poi lo vedremo chiaramente subito anche con il forecaster andare a vedere tutti i dati che avete sul sito ma quello che è più importante come dicevo lo possiamo vedere direttamente con il forecaster allora non crea chiaramente valore nel senso di andare a ottimizzare la situazione sul debito e così via però si focalizza in maniera molto molto precisa sulla erogazione del dividendo sostenendo questa crescita proprio puntando totalmente sul settore immobiliare e se andiamo a vedere proprio la crescita costante dei dividendi è impressionante da questo punto di vista eccoci qua questa è la situazione con i dividendi e vediamo una crescita assolutamente costante perché esattamente è il loro lavoro e andiamo proprio a vedere anche la situazione del fatturato che è sempre costantemente stato in crescita e anche gli utili hanno avuto una leggera discesa nell'ultimo anno ma comunque il settore immobiliare chiaramente ha i suoi saliscendi ma la gestione sembra assolutamente efficace da parte di vista dal punto di vista della Realty Income Corporation quindi secondo me per chi è alla ricerca di una costante erogazione di dividendi questa società punta proprio esclusivamente a creare valore gestendo al meglio e al massimo tutta la situazione di quelle che sono la gestione appunto del comparto immobiliare per cui ringrazio anche chi ce l'ha segnalata ecco qua 89 settori separati affittati a oltre 1500 clienti in tutti i 50 dei Stati Uniti, Regno Unito e in altri 6 paesi in Europa i flussi di cassa generati dal nostro portafoglio immobiliare è altamente diversificato a supporto dei nostri crescenti dividendi mensili e le iniziative di crescita strategica per cui hanno una cura seguono assolutamente con attenzione quello che è la gestione degli immobili dando proprio servizio ai clienti per la manutenzione e tutto quindi non solamente la vendita o l'affitto dell'immobile ma poi tutto il corso della vita per cui hanno appunto creato questo flusto costante e qui lo specifica nel corso del 2020 la resilienza del nostro flusso di cassa ci ha permesso di continuare ad aumentare il dividendo durante la pandemia completare un altro anno di crescita positiva degli utili e cambiare rapidamente direzione tornare alla crescita nella seconda metà dell'anno quindi un focus, un core business molto molto precisi e molto velocemente andiamo proprio a vedere anche la situazione da analisi tecnica eccoci qua, questo è stato l'anno della pandemia ripartenza e siamo di nuovo vicini ad area 47 è tutta una chiarissima area dove il mercato compra il titolo sostanzialmente quindi adesso siamo a 53 possiamo avere tranquillamente ancora un movimento ribassista già i 50 dollari sembrano fornire un'interessante area supportiva 51 dollari e quindi secondo me 51 dollari in presenza di un movimento rialzista potrebbe essere la base davvero per una ripartenza torniamo velocemente in Italia su Snam che abbiamo detto lunedì pagherà il saldo del suo dividendo e quindi potremmo avere tradividendo e tra la possibile situazione di incertezza del Fusimib potremmo secondo me andare a fare quest'area dei 4 e 18 che è oggettivamente una pulita area supportiva che si trova anche molto lontano dai massimi del 2023 a 5,13 e soprattutto dai massimi del 2022 quasi a 6 euro quindi 4 e 18 davvero interessante anche qui si potrebbe andare a proteggersi posizionando poi uno stop loss sotto i 3,95 chiaramente Snam sappiamo poco da dire titolo che per quanto abbia un alto debito ha chiaramente una solidità che ci lascia tranquilli è il classico titolo che l'investitore o l'asset manager o chi gestisce un hedge fund compra quando è basso per farla molto breve quindi 4 e 18 assolutamente interessantissimo secondo me per Snam titolo che negli ultimi giorni ha fatto famiglia Nike ieri sono usciti dei rating che hanno confermato la situazione di Snam come una situazione assolutamente positiva il titolo è lontanissimo dai suoi massimi del 2021 a 176 dollari adesso siamo al 97 quindi è un titolo che si compra graficamente bene se così possiamo dire è un titolo che ci evidenzia probabilmente un triangolo rialzista che dovrebbe essere stato confermato vedete come spesso accade la prima rottura non è quella buona la seconda sembrerebbe quella buona avviene da analisi tecnica nel punto corretto ossia un triangolo rialzista dovrebbe essere rotto e quindi validato in questa fase quindi dopo la metà della parte alta della resistenza insomma ma non troppo tardi e quindi qui siamo davvero in un punto corretto secondo i dettagli dell'analisi tecnica attenzione che e torniamo al nostro forecaster ovviamente come sempre avete in descrizione il link e il codice sconto da inserire per abbonarvi ecco NIGHT titolo che è davvero invitante se così possiamo dire per quelli che sono alcuni dati fondamentali innanzitutto abbiamo un fatturato sempre in crescita produce utili ha un sharehold yield maggiore del dividendo quindi come abbiamo detto tante volte questa è una panoramica che oltre al dividendo va a evidenziare l'attività virtuosa o meno del management in questo caso è un'attività sicuramente virtuosa perché il rendimento degli azionisti è più alto del rendimento del dividendo quindi cosa significa? significa che ha dentro di sé appunto il rendimento dei dividendi gli acquisti di azioni proprie e il rimborso del debito per mostrare i rendimenti totali che una società restituisce i suoi azionisti si tratta di uno sguardo più completo su come una società utilizza il proprio capitale per avvantaggiare gli investitori i tre parametri che siamo soliti utilizzare fatta di essi la media ci restituiscono un possibile fair value quindi un valore intrinseco un valore di libero chiamiamolo così di 130 dollari per azione quindi è sicuramente sottovalutata la situazione vabbè ok non c'è rischio di fallimento 6 su 9 di Piotrowski quindi ok ed è un titolo che è classificato come robusto che è la situazione migliore quindi riacquisto di azioni rendimento positivo per gli azionisti in aumento dati finanziari ponderati in aumento e vediamo appunto la diminuzione delle azioni con i vari buyback quindi titolo super promosso da questo punto di vista in sostanza da subito perché siamo proprio appena andati in rottura della figura del triangolo rialzista andiamo poi su un titolo sicuramente molto molto meglio conosciuto che ci avete richiesto e siamo su Vantea Smart se andiamo a vedere Vantea Smart andiamo a vedere perché chiaramente quando citiamo titoli che non sono Nike o Apple o Unicredit perfettamente legittimo che non si conoscono qui siamo su un titolo davvero con una capitalizzazione molto molto bassa di 26 milioni di euro effettivamente non si riesce quando parliamo di titoli sottili a inquadrare con uno storico o con dei dati diciamo più completi quella che può essere la situazione viene comunque classificato come resiliente per cui crea del valore e ha un shareholder yield più alto del dividendo quindi da questi pochi dati sembrerebbe comunque una situazione possiamo dire intonata in maniera in maniera positiva il titolo sembra effettivamente sottovalutato rispetto ai 3,89 euro di possibile valore siamo nel settore tech e anche qui andiamo a fare una veloce traduzione eccoci qui si impegna nella fornitura di soluzioni e servizi di sicurezza informatica prodotti software piattaforme di e-commerce digitale abbiamo capito il settore però è una società molto molto piccola 158 dipendenti però why not come si suol dire potrebbe esserci sempre una pepita nascosta tra i neandri degli indici di borsa siamo anche qui su un titolo storicamente giovane e quindi anche in questi casi trovare i livelli effettivi di swing non è semplice se volessimo tracciare una trend line quello che è comunque evidente perché il titolo sembra voler puntare a un'inversione di trend nelle ultime sessioni sta andando a fare un ritraccio ma chiaramente eccoci qua la volatilità il noise le aree di swing sono meno affidabili su titoli così sottili ma comunque area 1,60 se dovesse essere ripresa diventa davvero un'area secondo me interessante e andiamo poi su un titolo invece gigantesco torniamo a Wall Street io vado in ordine in base alle richieste che ho preso qualcuna forse è sfuggita ma la rivedremo poi eventualmente nei prossimi video allora Disney titolo che da 200 dollari era piombato a 80 e qui gli investitori lo hanno lo hanno eccoci qua lo hanno ovviamente attenzionato minimi fatti con il Covid marzo 2020 minimi in maniera millimetrica quindi questo anche sempre ha sostegno dell'analisi tecnica anche se poi chiaramente ci sono tantissimi detrattori dell'analisi tecnica ma va bene ci interessi molto ognuno opera sui mercati come meglio crede io cerco di mettere dei dati per vedere se un titolo è un titolo valido e se è un titolo valido cercare poi il timing tramite l'analisi tecnica qui abbiamo avuto la ripartenza da quasi 80 dollari a 123 e movimento movimento assolutamente interessante adesso distorno e qui sarà davvero da seguire Disney perché se dovessimo avere un rientro eccoci qua andiamo a evidenziare un rientro in quest'area che vediamo essere stata chiaramente in precedenza un rientro ai 95 secondo me è un titolo assolutamente da considerare ma anche in ottica anche in ottica di portafoglio Disney era ritornata una situazione particolare un po' chiaroscuro dal punto di vista dei dati fondamentali perché era eccoci qua era ritornata dopo un lungo periodo in rosso a riportare utili e questo è quello che è piaciuto sostanzialmente poi agli investitori a un shareholders maggiore del dividendo quindi una buona situazione se andiamo a vedere era in negativo nel 2020 poi è tornata a fare utili se andiamo a vedere i trimestri era in negativo a luglio del 2023 poi settembre è tornata in positivo producendo utili e quindi c'è stato l'acquisto adesso nel primo trimestre è leggerissimamente di nuovo in rosso quindi una situazione incerta ma comunque un titolo sicuramente importante comunque ampiamente sottovalutato rispetto a quelli che sono i parametri dei quali abbiamo a disposizione chiaramente con un trimestre con un trimestre che è stato l'ultimo negativo non abbiamo il valore economico ecco non è applicabile il valore economico aggiunto e quindi è una situazione non completa ma comunque in generale ci sembra una situazione comunque positiva e area 95 dollari sembrerebbe davvero davvero interessante ecco quindi questa la nostra analisi per questo weekend vi invito a iscrivervi al canale a cliccare sul logo della campanella così che avrete una email come notifica che vi indica che c'è una nuova analisi ok siamo live e quindi potete essere sul pezzo e seguire tutte le analisi potendo poi verificarle a mercato confrontandole con le vostre vi invito come sempre a scrivere nei commenti delle analisi che volete che io vada a vedere vi prego semplicemente di metterne una o al massimo due a testa perché altrimenti poi inevitabilmente qualcuna me ne perdo ancora grazie a tutti buon trading buon fine settimana qui è qui